Vuoi fare delle foto? Postala! Ancora un altro drink! Guarda, guarda! Oh ragazzi, che si dice? Li avete poi comprati i biglietti come vi ho chiesto due settimane fa? Quali sono i migliori? In balzonato o in prima fila? Ehi Mitsu, chi è il tuo amico? Ma chi è? Ho cercato di buttarlo fuori Non possiamo liberarcene? Non lo so, ma è qui dall'inizio Scommetto che è solo un glitch Beh, il glitch ha scritto un messaggio Chiedite che può essere? Questo è l'account di Lora Chi ha che era l'account di una notte? Potrebbe essere Lora Ora alziamo tutte le mani Chi è Jack? Oh mio Dio Dai ragazzi, chi ha postato il video? Non sono stato io Beh, uno di noi è stato Ti rimetterò in cesto E poi ti ridurrò di nuovo in pace Chi c'è? Chiudi la porta Chiudi la porta Ma ascolti di Perché mandi questo video? Oh, ma giuri? Ma che sta succedendo? Che cosa fa? Tieni qualcosa Io stacco No, 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 no Ti ucciderò Ho una pistola Mi senti? Perché sta contando? No Si sarà da divertirsi